Doveva essere una manifestazione pro-Palestina, invece si è trasformata in una manifestazione a sostegno di Hamas e contro Israele. Addirittura qualcuno ha bruciato la bandiera di Israele, ma quello che a me lascia sbigottito sono i simboli che vedete. Ma la mia paura più grande, penso che sia quella di molti, è che qualcuno non faccia atti emulativi come l'altro giorno in Francia. Ma ascoltiamo Capezzone, che spiega in maniera perfetta la situazione. E' chiaro, Israele dice a quelli di Gaza andate via, Hamas impedisce che vadano perché Hamas vuole usare la sua stessa gente come scudi umani. Contemporaneamente con l'altra mano fanno appello al terrorismo in Europa e mi spiace, io sono molto preoccupato anche per le manifestazioni qua, perché ci avevano raccontato fino a ieri, no, sono manifestazioni per la Palestina e non a favore di Hamas. Poi vai a vedere bene i cartelli che invocano la distruzione di Israele, i cori Israele fascista. Noi abbiamo troppa gente in Italia, abbiamo fatto entrare troppa gente in Italia, troppi islamici e troppi islamici radicalizzati. Ora bisogna controllare gli imam qui, che giochino una partita pulita e non sporca, prediche in italiano, sapere quello che dicono, cacciare e punire chiunque faccia il predicatore di odio e metta benzina sul fuoco. Questi ci vogliono portare la guerra qua dentro, è chiaro, no? Eh sì. Io voglio salutare il genio...